Le dichiarazioni di Garbatini, Santorelli e del Vecchio sono dichiarazioni farneticanti, sono buffonate. Nessuno ha venduto nulla a nessuno. Il sito del nuovo ospedale è assolutamente aperto, anzi direi apertissimo. Ci sono sul tavolo le proposte di Muraglia, sul tavolo la proposta di Chiaruccia, c'è sul tavolo ancora la proposta deliberata tre anni fa, che è il sito di Fosso Seiore, che fu condiviso dall'allora sindaco di Pesaro, dal sindaco di Fano Aguzzi. L'allora sindaco di Pesaro oggi è il governatore delle Marche e anche assessore della sanità. Fu condivisa dall'allora presidente della provincia Matteo Ricci e anche da Massimo Seri e da me. Dobbiamo immaginare anche di rivedere il piano aziendale perché l'integrazione fatta fra i due ospedali di Fano e di Pesaro prevedeva come punto di arrivo lavorare in un unico sito. Oggi invece lavoriamo su tre siti, Muraglia, Santa Croce e San Salvatore. Quindi il piano aziendale va assolutamente rivisto. Quindi nessuno ha venduto l'ospedale, assolutamente falso quello che viene detto. Io dimostro con chi mi conosce, chi conosce la mia storia, sa che sono una persona trasparente e leale e non mi sono mai risparmiato nel lavorare per la mia città e per il mio territorio. E quindi la mia coerenza dimostra l'impegno che darò per la realizzazione del nuovo ospedale. Ritengo che la scelta debba essere fatta in modo assolutamente condiviso, ma rispingo al mittente le dichiarazioni fanaticanti fatte dai consiglieri di minoranza.